Alla Fiera di Pordenone tutto è pronto per una nuova edizione di SICAM, salone internazionale dedicato ai semi lavorati, alle forniture e agli accessori per l'industria del mobile, che si terrà dal 15 al 18 ottobre nel complesso fieristico in Viale Treviso. Anche per questa quindicesima edizione il salone registra un sold out tra gli espositori e come ogni anno si attendono circa 20.000 persone da ogni parte del mondo. Per accogliere i visitatori presenti in fiera, la nostra città ha organizzato Enjoy Pordenone with SICAM, una serie di iniziative collaterali all'interno del centro storico, sotto la regia del comune. Eventi enogastronomici con degustazione a tema, concerti, musiche con DJ set e per gli amanti di arte e cultura, apertura straordinaria dei musei cittadini. Insomma, una formula che intende promuovere i prodotti del nostro territorio, favorendo le attività commerciali e i locali della città. SICAM è la fiera più importante che si svolge a Pordenone, circa 20.000 persone da tutto il mondo. Era impensabile, come accadeva in passato, che tutto questo flusso di gente si fermasse in fiera e non fosse accolta in città. Da qui nasce il fuori salone Enjoy SICAM per fare in modo che la città sia attrezzata, ospitale nei confronti di queste persone e così aumentare le potenzialità di un indotto che è già importante ma che ha delle potenzialità che vanno sviluppate. Quindi, facendo venire qua le persone, facciamo in modo che non solo Pordenone sia conosciuta da queste persone per la fiera SICAM, ma sia conosciuta anche per l'ospitalità e per il tanto che offre uno spazio così piccolo. Un momento importantissimo per certificare che una fiera importante, anzi una manifestazione importante, ospitata da Pordenone Fiere come SICAM, viene accolta da tutta la nostra popolazione, una popolazione che capisce quanto è importante per l'economia del territorio e risponde prontamente a quelli che sono i dettami di una corretta città ospitale. Enjoy Pordenone with SICAM. Per il secondo anno la città coglie l'opportunità di questa fiera internazionale per portare in città durante tre giorni infrasettimanali eventi, musica, sapori, colori in modo da rendere più attrattiva la nostra Pordenone. Invito tutti a venirla a visitare, a poter godere di questi eventi che si terranno nelle vie, nelle piazze del cuore della nostra città. Da questo fuoristalone quest'anno, che mi sembra con tantissimi eventi, ci aspettiamo che tutti i nostri visitatori ed espositori, dopo una giornata faticosa in fiera, possano godersi la bella città di Pordenone. In tutti questi eventi, chi è più interessato a mostre possa andare a visitare i musei. Invece ho visto che ci sono anche tanti eventi per giovani, quindi DJ set, musica, allegria. Ci aspettiamo questo, che loro si godano la città a pieno. Visti i buoni risultati dell'anno scorso, nonostante il brutto tempo. Adesso ho guardato le previsioni, dovrebbe essere leggermente migliore, e quindi ci auguriamo che questa seconda edizione, che ormai è una tradizione ben radicata e la collaborazione tra SICAM e il Comune ha funzionato molto bene, diventi proprio un evento a 360 gradi di positivo e di successo. Per conoscere il ricco calendario di iniziative dedicate non solo agli ospiti di SICAM, ma anche ai cittadini e alle famiglie, comune.pordenone.it slash enjoypordenone.